Prima corsa sta partendo, ci siamo, tutto pronto di ordine lo starter, partiti. Primi metri di gara con in vantaggio Santo Di Padova all'esterno Padania Felix, quindi De Empresse, Trionfatina, Falcon in the air e Omissis. Attacco dalla prima piegata, in vantaggio troviamo Santo Di Padova in giubba verde con la banda gialla, in seconda posizione in giubba lilla, a due lunghezze segue Padania Felix, quindi in terza posizione De Empresse, in giubba blu, cap bianco, in quarta posizione galoppa, Trionfatina, a chiudere ci sono Falcon in the air e per via eterna Omissis. Ha un giro esatto dalla fine, Santo Di Padova è in vantaggio, a tre lunghezze segue sempre Padania Felix con in terza posizione De Empresse, in quarta troviamo Trionfatina che inizia ad essere richiesta da Germano Marcelli con in quinta Falcon in the air, a chiudere Omissis. Quando 600 meri conclusivi è nelle mani di Salvatore Basile, Santo Di Padova si incira per controllare la situazione, ma Padania Felix ha cinque lunghezze dietro, quindi c'è la risalita di Trionfatina e per via larghe anche Falcon in the air, quando ha aperto i rubinetti, Santo Di Padova nei confronti di Padania Felix, quindi perciera volata di Falcon in the air De Empresse a Trionfatina. Si ricucia il gap di Santo Di Padova che ora ha due lunghezze di vantaggio nei confronti di Padania Felix, quindi Trionfatina a 150 meri dal palo, in vantaggio c'è Santo Di Padova, all'esterno c'è l'attacco di Trionfatina, Trionfatina che sta scattando nei confronti di Santo Di Padova con un bellissimo match, Santo Di Padova all'interno, Trionfatina all'esterno, è bellissimo il match. Tra i due c'è anche Padania Felix, i tre che sono finiti in linea, con all'interno Santo Di Padova, all'esterno Trionfatina, tra i due Padania Felix. Rivediamo lo slone monitor dell'Iporomo, se si riuscirà a decifrare il tutto, con all'esterno c'è stato lo scatto perentorio di Trionfatina che forse beffa i due, ma rimaniamo sugli attenti perché all'interno c'è Santo Di Padova e Padania Felix, è bruttissimo l'arrivo, le telecamere che vanno su Trionfatina, ma ci vorrà l'aiuto del giudice per decifrare il vincitore, rimaniamo sugli attenti, aspettiamo solo l'arrivo del giudice, forse Trionfatina. Eventualmente la quadra di Trionfatina è 3.30.